Il commissariamento di Tercas è stato prorogato di altri due mesi. La proroga è stata decisa dalla Banca d'Italia su proposta dello stesso commissario Sora per completare i percorsi autorizzativi presso le competenti autorità di vigilanza propedeutici alla realizzazione del percorso di integrazione del gruppo Tercas nel gruppo Banca Popolare di Bari. Il tutto in attesa dell'Assemblea dei Soci che sarà chiamata a varare l'aumento di capitale con l'ingresso del gruppo barese. Il governatore d'Abruzzo interviene e chiede un incontro con il commissario Tercas e Caripe Riccardo Sora. Si è messo in evidenza come nella prospettiva questa realtà bancaria ricomincerà o tornerà a fare servizi di qualità a favore dell'economia e del territorio. Ho avuto rassicurazioni anche per la quantità e la qualità di occupazione che è al centro anche della battaglia del sindacato, del sindacato sano e responsabile. E poi ci siamo interrogati su quello che può essere il livello della vitalità economica dell'intera regione poiché l'osservatorio di una banca è un osservatorio nutrito da dati e da elementi particolari. Anche su questo ci siamo trovati nell'avere molta fiducia rispetto agli anni prossimi della vitalità economica abruzzese. A margine di un quadro economico difficoltoso per Teramo, Pescara vive l'emergenza ricapitalizzazione aeroporto. 5,3 milioni di euro da risanare che, notizia dei giorni scorsi, sarebbero disponibili grazie ai fondi per il mezzogiorno. Martedì all'Aquila la votazione della legge. Ma qualcuno dice che ancora qualcosa traballi. Noi oggi vogliamo portare a termine la ricopertura finanziaria così come occorre e così come ci è stato segnalato anche dagli organi di vigilanza di Saga. Va concepito un nuovo piano industriale che faccia sì che il mercato finanzi il fabbisogno dei servizi di Saga. Oggi io sono arrivato a compartimento ferroviario, tra virgolette, giudicato e non dico pregiudicato. Per il futuro dovrà cambiare il ritmo grazie al quale Saga eroga i suoi servizi e utilizza le sue risorse. Oggi siamo a corsa, a corsa in corso e faremo in modo che il più possibile ci sia educazione e compostezza dei numeri e delle regole.